Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Calenzano e il via 1 variante in direzione di Bologna. Tra Firenze Mare, coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Oest nella carreggiata in direzione di Pisa. E arriviamo in Fipili per lavori, coda di 3 km tra la Strassigna e Ginestra in direzione mare, in carreggiata opposta, un km di coda tra Montelupo e Ginestra. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti per corsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Ultima pagina per il traffico ferroviario, per una riprogrammazione dell'offerta commerciale i regionali 69-17 Siena chiusi Chianciano Terme e 69-22 chiusi Chianciano Terme Siena sono cancellati sull'intera tratta. Sono stati predisposti due bus sostitutivi. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!